Mi chiamo Ivana, sono dalla Slovacchia, ma ora faccio l'OSVE a Palermo. Il mio progetto è faccio l'OSVE con l'associazione si chiama Informa Giovanni. Sì, lavoro in ufficio e anche ho lavorato nel centro dopo scuola con i bambini e ho fatto anche un po' di work camps as a leader perché ho fatto volontariato prima di l'OSVE, ma dopo ho fatto questo deciso perché ho trovato questa opportunità nell'internet e prima ho fatto il mio volontariato in Islanda, quindi volevo provare come si vive allo sud. Prima di tutto ho imparato italiano perché non lo sapevo da parlare prima. va bene, ho incontrato con i ragazzi stranieri, quindi c'era questo bello scambio di interculturalità. e sì, ho imparato come posso vivere come più ecologico qua perché, non so, forse non sapete, ma qua questa cosa non funziona molto bene. Ho trovato un lavoro e questo lavoro è molto bello perché è una cosa che ho studiato e mia vita non ha cambiato molto perché ho avuto esperienza di volontariato prima, quindi non ha cambiato molto. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Grazie a tutti.